è il pesce spaccato qua non ti asci è stato breve però si può usare sta inquadernato è una brava cosa è una brava cosa si ti devi fare un po' poco più che cosa l'ho schiacciato è una cosa ti chiuso la porta così è più facile scendi scendi bella questo è un vesto nuovo devo imparare i cavalli fungino di più si oddio che cosa è successo dai rasta fa girare scila scila è molto educato è educato quanto fa non si sa bene quello la è educato però ha sentito il calore sta prendendo bastardo adesso devi stare a casa guarda questa sta cinque anni tra i quattro i cinque anni dopo questa la carezzi sta girando il filo facciati un pochettino che ti 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 devi passare sotto a fuori quello là è geloso è carino sono male con tutti e perchè se le sono tolte? non si sa comunque ti dice che forse sono ironi quei i gabbiani i facsimili dei gabbiani però le gamba più lunghe dici? si perché le fitte a meno come dicono i contadini le hai fatte le foto Laura mentre Claudia è accovacciata? si quindi già avete fatto? ok 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 ok